Il 13 agosto del 2020 il Consiglio Comunale di Qualiano deliberava di intitolare una piazza del nostro paese all'agente scelto Pasquale Avicella, conosceva solo la storia dell'incidente ma non conosceva Lino Avicella. Con il tempo abbiamo conosciuto anche la storia di Lino ed una volta saputo dai racconti dei colleghi, dai racconti degli amici, dai racconti dei giornali. Dai racconti dei familiari chi era Lino, ognuno dei consiglieri comunali che ha votato quella delibera ha pensato di aver fatto la cosa giusta. Al sacrificio di Lino, ma pur se sono parole scortate, mi piace ricordare a lei e alla sua famiglia che a partire da oggi questo sacrificio non sarà vano. Parole che possono sembrare ovvie, ma le assicuro che sono le uniche veramente sincere e sentite. Da oggi Pasquale Avicella, medaglia d'oro al Valor Militare, è uno di noi, è membro della comunità di Qualiano ed è anche un membro della nostra famiglia. E far parte della nostra toponomastica in una piazza dove la strada parallela intitolata a Giovanni Falcone è stata scelta felice. Due stelle del filmamento che sicuramente illumineranno il nostro cammino è quello della famiglia di Lino in un afflato unico e invisibile. Giovanni Falcone ci ha dato il segno. È un giorno in cui rendiamo onore a Pasquale Avicella. Grazie di cuore.